Ok, ritornati in questa stanza maledetta, c'era una chest di metallo al centro e ho preso il forcone che non ho tippato tra l'altro Scusciato la scheletra Però non so il mio occhio di che fine abbia fatto Ha il taser, lo zottatore Io non ho che dove, aia, dove, l'ho lasciato Ma ecco, faccio un'altra Ok, vediamo queste cose C'è l'accio, che cose? Maglietta Studio Evil, addirittura, la maglietta della produzione 15-10, armatura leggera Eh, posso indossarla, no? Ah no, mi cambia l'armatura pixel Ok, 10-5, armatura pesa, vabbè, ma... 15-10, tanta roba Andiamo avanti Devo ricoverare un po' di vita Ora l'armatura leggera E infatti sono bello svelto Vabbè, vediamo giù cosa c'è Oh, posso dover riposare? Sì, ci piace, ci piace tantissimo Anche cibarmi, magari Andiamo Ho zero vita e non voglio morire se muoio Oh... Un po' che carino, un chiaso di fiori Il cappello con fiori è già Guarda Più sei al tempo Che cos'è il tempo? Mmm, rapidità No, vabbè, ma io c'ho il cappello che mi dà più 10 Allo scudo con l'acido E gli oggetti Non fa niente Fa niente, fa niente Andiamo giù Vediamo Troverò la camera del boss Come poi No? Ok, almeno Ho spento lo sto coso Magno Questo è fatto Ah Batacchiati sul muro Ripiglio il mio Nokia Faccio un piedo Oh, velocissimo Per esempio la leva è diversa Oh Ok Non abbiamo fatto l'altra stranza E andiamo giù Piri, pipiri, pipiri Ma swishano, maledetti Niente Odio Odio È come quando non ti entra la skill In World of Warcraft Non ti entra la magia Che odio No Facca gara E no Mi è uscito dalla là Questo qua non finisce mai più Non finirà più Lo so Almeno Non posso scivare Ok Ok Il mio Nokia Temo di averlo buttato nella lava Ma non finisce più Il quadro Il quadro Il coccomero Il coccomero Il coccomero Quanti mob E' pochi armi Tanti mob e pochi armi Direi di andare a prendere il triangolo Un uccirà Eccolo là C'è un altro Nokia Se c'è un altro Nokia Prendiamo un altro Nokia Mi farò Uccidere Malissimo Si sta curando il dentro Bello felice Spenga sul muro Morirà e morto Finalmente Quinta volta vorrò sbatterla al muro Swish odiosissimi Mamma mia che nervi di Swish Qua un altro mega stonzone Altissima Vediamo cosa c'è di gustoso Sparsa un po' ovunque Armatura C'è una maglietta della Studio Eagle E la torta è tanta roba però La torta è tanta roba Qui non ci sono mostri assolutamente La torta sta qua Allora devo posare un oggetto sopra quella pedana Sì ho solamente oggetti che però vanno a distanze assurde Ecco arrivano i mostri Ok E apriamo da qua Plum 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 E posso andare ad un'altra stanza Direi che ci vado perché Questi così Nooo no 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 Stavo per perdere il Nokia C'è un ovetto Questi due Gnam 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 E si è alzato E si è alzato Bang Non muore Eoh muori Non muore Non muore Non muore Non si scappa Finalmente La resistenza assurda Sto coso Beh il cagnoletto rimarrà per sempre Rischio di morir Non voglio essere schietato Ma perché fanno swish maledetti Basta Procederò alla recupera della torta Ah Mi fanno male Tanto male Tanto tantissimo male Dove finita la torta? Dove l'ho messa la torta? Torta Torta Scomparso la torta? Ma dai C'è più la torta C'è di tutto Un gran party Grande festa La gioia Bapapang No Sì Il problema di questa nocchia È che swish parecchio Un oggettino Che mi dà qualcosetta Che non ricordo Poi andiamo a leggere E che ora non posso Piripi Piripi Dove sono Odio Lo swish Odio lo swish Ma donna mia Devo prendere Più più Penetration Non so come faccio A prendere cose Che mi fanno colpire Più facilmente Che odio Stanno staspingendo Ok E apriamo E riprendiamo Il logia Il fatto che ho perso la torta Mi infastidisce Però va bene Fa niente Cibo Magari Poco cibo Molto poco cibo Molto poco cibo La pedana Arriveremo mai al boss Non lo so Non credo Questo quadro è infinito Cos'era questo rumore Tra mega cesso Tonde varia Cibo E' morto con una pozione Una torta Non devo andare Qui su Sto per rimalli Sto per lasciarci La pelle Eiaiaia Devo cibarmi Quella torta Non è mangiabile In realtà Che sarà un prodotto Di meriangione Mangela Triangolone E anche Non morti Mamma mia Quanta roba A cagare Bang No Non so dove l'ho lanciato Lontano Nel mondo Ok Recuperiamo Il telefono E andiamo Al prossimo quadro Cibo Necessi a cibo Necessi da tanto cibo Forse Forse L'anguria Andrà di più Così Vabbè Con pozioni Che fanno male cane Cibo 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 Ne Serve altro cibo 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 Guarda Quanto ce ne sta Mamma mia Sembra che Abbiamo un attimo Laggato No Non voglio morire Che quadro lungo Il problema dei quadri lunghi È che se non ti danno Abbastanza cibo Non hai sostentamento Non hai sostenability E muori Aia Sto per rimanerci No me li devo portare Li devo Tauntare Li devo Chitare Dai Cicci Dai Che odio Meno uno E' perso Babba via Che difficoltà Babba via Signori Questa Non vedremo mai Il posto Di questo livello Oh Why È Grazie Ho fatto 800 Ossa Posso già comprare Un altro personaggio Non vedremo mai Il boss di questo livello È lunghissimo Ragazzi Bene Ci riproveremo La prossima volta Ciao Cicciuzzi Ciao 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 Grazie a tutti.